Buon pomeriggio e ben ritrovati negli studi di Sport Italia, prontissimi per una nuova puntata con il magazine dedicato alla palla Tamburello. Un saluto e un buon pomeriggio a Flavio Ubiali. Ciao Flavio. Ciao Chiara, ben ritrovata. Allora sì, giustamente perché la scorsa settimana sono mancata ma la nostra Christel Talamonti mi hanno detto che è stata molto molto brava quindi adesso il mio posto è a rischio. A rischio sì, è stata veramente molto brava. Bene bene, allora Flavio di che cosa parliamo quest'oggi? Oggi è una puntata che si tinge di rosa e quindi meglio di Alessandra De Vincenzi che è il consigliere federale che segue tutta l'attività appunto per la federazione e per l'attività femminile e nonché abbiamo anche la miglior giocatrice del campionato di serie B, dello scorso campionato quindi del 2022 e che è stata anche premiata al Gran Galà dove anche tu Chiara hai presenziato. Quindi abbiamo diciamo il meglio del meglio in questa puntata del femminile. E allora le avete già viste inquadrate, le ripresento nuovamente quindi un saluto ad Alessandra De Vincenzi. Ciao Alessandra. Buongiorno. E un saluto anche a Nicole Buselli. Ciao Nicole. Allora Alessandra partirei proprio da te cercando di andare un po' a riassumere quelli che sono i principali avvenimenti stagionali così poi vediamo anche i vari risultati maturati insomma nelle varie competizioni. Certo, allora per quanto riguarda l'attività femminile quest'anno ci sarà un primo evento importantissimo il primo weekend di luglio negli sferisteri mantovani di Cerete e Ceresara ci sarà la Coppa Europa dove vedrà Italia e Francia a contendersi la nostra Champions sia nel maschile che nel femminile poi ci sarà nella prima settimana di agosto dal 6 al 13 agosto la Coppa Italia in Trentino a segno e poi ci saranno a settembre le finali scudetto di Serie A e B femminile nel mentre anche l'attività giovanile delle più piccole appunto troverà il suo epilogo in quello che è il campionato giovanile nell'ultima settimana di luglio. Ecco dunque insomma un programma ben pieno, ben definito poi tra pochissimo Nicole ci dirai anche tu le tue sensazioni dal campo intanto per continuare appunto ad approfondire questo tema direi di vedere i risultati maturati nella quinta giornata della Serie A Open femminile così vediamo poi anche come è cambiata la classifica, quelli che sono stati i risultati soprattutto ci sono state anche una partita in questo caso rinviata quindi bene sottolinearlo questo comunque il quadro con Cavrianese e Faedo che è stata rinviata San Paolo-Dargon-Cereta finita 6-5 a 6-3 Tigliolese-Ceresara 6-1-6-4 ha riposato il segno vediamo anche la classifica così almeno possiamo poi sentire il commento di Alessandra De Vincenzi sui risultati e su questa classifica Sì la classifica vede al primo posto Tigliolese-Ceresara con 12 punti con una partita in meno il Tigliole che ha già osservato appunto il turno di riposo poi abbiamo Faedo-Cereta e San Paolo che domenica scorsa ha trovato la sua prima vittoria a 4 punti e ultime Cavrianese e segno a 3 punti Ecco dunque Flavio ti aspettavi un risultato diverso a qualcuna? No diciamo che la classifica appunto vede nei primi due posti le squadre che si sono maggiormente attrezzate per appunto per la vittoria finale quindi penso che è una classifica veritiera Alessandra credo che sia abbastanza veritiera per quanto riguarda le atlete in campo le possibilità di queste atlete nella propria squadra Ecco questo è il quadro per quanto riguarda la Serie A Open ma dedichiamoci anche alla Serie B perché poi Nicole ci dirai tu i tuoi pensieri Allora anche in questo caso vediamo i due gironi così riusciamo a capire qual è la situazione per quanto riguarda la Serie B Open femminile dopo le tre giornate lo ricordiamo quindi rispetto alla Serie A che le giornate sono state 5 già nella Serie B sono 3 Le giornate questa è la classifica con i due gironi quindi Girone A e Girone B Nel Girone A in testa c'è la Cavrianese con 8 punti poi seguono tutte le altre squadre Girone B il Ciserano sempre con 8 punti e via via seguono le altre squadre Prima parto da un commento tuo Alessandra e poi diamo spazio anche alla nostra Nicole Sì anche in questo caso le forze in campo sono rispettate perché le prime due del Girone sono diciamo le prime due della classe sono quelle che sono le squadre più competitive sicuramente ma il campionato di Serie B è storicamente quello un pochettino più imprevedibile quindi mi aspetto ancora una classifica con qualche punto come diciamo di solito rosicchiato durante il Girone di ritorno Ecco diamo anche due indicazioni per quanto riguarda il regolamento Sì allora per quanto riguarda sia la Serie A che la Serie B per l'accesso alla Coppa Italia della settimana di agosto si prenderà in considerazione il Girone di andata quindi è importantissimo fare bene nelle prime giornate per quanto riguarda invece l'accesso alla finale Scudetto essendo la Serie A a Girone unico accederanno alle semifinali le prime quattro della classifica finale per quanto riguarda invece la Serie B ci saranno i quarti di finale quindi tutte e quattro le squadre dei due gironi faranno i quarti di finale poi le vincenti si affronteranno nella semifinale e a questo punto ancora nella finalissima Ecco bene così almeno abbiamo spiegato bene le varie modalità per quanto riguarda il regolamento Nicola allora parto da te parto dalla classifica insomma abbiamo visto il Monte con tre punti quindi ti chiedo anche le difficoltà che ci sono in questo campionato perché immagino che è molto molto agguerrita la situazione Sì è un campionato comunque molto equilibrato e a noi manca ancora una parte da recuperare che ricopriamo settimana prossima e le squadre sono abbastanza equilibrate quindi ogni partita è molto a sé va giocata fino in fondo e secondo me non si può prevedere un vero una vera e propria favorita diciamo che è ancora un po' presto perché comunque l'abbiamo anche visto sono solamente tre giornate e ti chiedo quali sono gli obiettivi della tua squadra insomma su cosa state lavorando principalmente Noi cerchiamo di lavorare ogni anno sempre meglio è da cinque anni ormai che siamo più o meno sempre uguali all'interno della squadra e stiamo crescendo insieme sicuramente quindi tentiamo sempre di raggiungere un obiettivo sempre più alto e sempre più concreti Ecco ci sono delle partite che magari sentite maggiormente non so faccio riferimento magari a delle possibilità di derby oppure partite un pochino più delicate come la vivete? Allora c'è la partita con il Cavalcaselle che è una squadra con cui giochiamo contro fin dalle giovanissime quindi sono qualche anno e quindi la sentiamo molto importante per capire anche come stiamo lavorando durante l'anno come se siamo migliorate o se c'è da fare qualcosa in più quindi è una partita che sentiamo che ci stimola tanto e la sentiamo molto importante Ecco e quindi quando diciamo avete queste partite un pochino più delicate anche a livello di pressione non so avete dei vostri rituali che magari dovete fare per cercare non so di rendere poi al meglio oppure via via preparate tutte le partite Esatto in maniera molto diciamo obiettiva ecco Sì 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 Allora facendo poi invece un piccolo passo indietro quello che diceva anche Flavio no quindi facendo riferimento al Gran Galà al diciamo il premio che tu hai ricevuto che emozione è stata torniamo un po' indietro No è stata una grande emozione anche perché era totalmente inaspettato e sono stata molto felice di raggiungere questo obiettivo è stato un po' ripagare gli sforzi e il tempo che dedico al tamburello appunto Ecco e questo è il momento La premiazione sì Ecco il momento della premiazione È un premio che potrebbe anche ripetersi no? Perché visto l'età potrebbe anche tornare a rivincerlo Ebbè a questo punto la sveliamo l'età Quanti anni hai? Quasi 18 Che bello Io quando faccio questo appuntamento con il magazine dedicato alla palla tamburello mi sento sempre molto molto vecchia perché tu mi porti solo atlete giovanissime o atleti molto giovani quindi la prossima volta un atleta più maturo Mettiamolo così Appunto ci diciamo che è il miglior 23 quindi avendone 18 così buon per sperare di portarne a casa altri premi per questo titolo Ecco Alessandra ti chiedo per gli atleti molto molto giovani essere affiancati magari da atleti più maturi quindi che hanno esperienza quanto può aiutarli nel percorso loro di crescita? Ma in realtà io ho un'altra idea nel senso che se c'è un gruppo giovane di ragazze è giusto che crescano insieme che facciano la loro esperienza e che non usufruiscano di stampelle lungo il percorso perché è più corretto secondo me che ognuno se la sappia cavare e cerchi di cavarsela con le sue forze allora lì si vede davvero il percorso di crescita di maturazione di una giocatrice tant'è vero che noi comunque abbiamo guardavo prima l'età delle nostre giocatrici abbiamo un'età media che si aggira dai 23 ai 24 anni abbiamo una squadra giovanissima quest'anno in serie B che è il Valgatara dove l'età media è di 15,5 anni con tutte ragazze appena al quindicesimo anno e poi abbiamo le eccezioni qualche giocatrice un pochettino che insomma ci alza la media ma una media di età di 20-23 anni vuol dire uno sport davvero giovane e fresco ecco e poi per fare il salto dalla serie B alla serie A essendo loro molto giovani anche in quel caso lì è giusto farle fare tanta esperienza in un camionato leggermente minore oppure se c'è la possibilità ci sta anche magari arrivare da molto giovane nel massimo campionato secondo me quella è la strada migliore nel senso che comunque se le ragazze tecnicamente e fisicamente sono preparate possono tranquillamente fare il campionato cadetto che è il nostro campionato di serie B e poi accedere direttamente al campionato di serie A dove comunque c'è un dislivello sicuramente tra le prime due e le altre 5-6 del campionato però è giocare contro gente forte e preparata che ti aiuta a migliorare non è il contentino del set vinto della partita portata a casa quella è la cosa importante insomma Flavio l'Alessandra parla così perché è anche responsabile della nazionale femminile quindi conosce bene le ragazze perché le segue durante tutto l'anno appunto per poi fare le varie selezioni le varie stage insomma quindi abbiamo capito quello che sarà il tuo percorso poi fondamentalmente per arrivare nel massimo campionato allora abbiamo visto il quadro della serie A open femminile della serie B open femminile vi facciamo vedere anche i risultati maturati per quanto riguarda la serie A open maschile così vediamo che cosa è successo nell'ottava giornata e in questo caso una partita è stata sospesa e una partita è stata rinviata sospesa per mal tempo un po' come abbiamo visto anche nella serie A open o ci sono delle altre motivazioni diciamo che siamo per il discorso del mal tempo quindi non ci sono state grosse sorprese i risultati parlano chiaro l'unica cosa è sottolineare la partita tra Bardolino e Ceresara che è l'importante vittoria del Ceresara sempre per il discorso classifica per quanto riguarda la Coppa Italia perché nel girone di andata ci ricordiamo che il sesto posto dà diritto all'accesso ai semifinali per la Coppa Italia il Ceresara appunto vincendo contro Bardolino ci porta che poi vedremo magari nella classifica sì possiamo vedere la classifica così almeno eccola qua infatti vedete che Ceresara il Solferino ecco sì il Solferino a 20 punti con la Cabrianese 19 però il Ceresara in questo momento qui che è al sesto posto sì sì il Solferino con 20 punti che è prima che è 20 punti la Cabrianese 19 punti Pasino Castellaro 18 punti quindi questo è un po' il quadro per quanto riguarda la Serie A Open maschile l'importante è quello era il prossimo turno dove avremo appunto gli scontri diretti in alta classifica quindi ci sarà il Castellaro che ospiterà l'Arcene e il Solferino che giocherà in casa con la Cabrianese e in chiusura ci dedichiamo anche alla Serie B Open maschile vi facciamo vedere i risultati maturati poi vediamo anche la classifica i risultati maturati nell'ottava giornata con il Castelli Calepio che ha battuto Valgatara 6-4-6-3 poi le due partite rinviate il segno batterà lo 6-3-6-2 invece la Cassa Rurale Tuenno vince in trasferta contro il Valle San Felice 6-3-6-2 ha riposato il Dossena questi risultati Flavio? Sì bene il Castel Calepio perché vincendo contro Valgatara si porta in testa il classifica con il Dossena anche se adesso vediamo la classifica vediamo che sono a pari punti e proprio questo weekend ci sarà lo scontro al vertice appunto tra Castel Calepio tra Dossena e Castel Calepio quindi un match tutto alla Bergamasca e questa appunto la classifica con insomma le due squadre che hanno pari punti ricordare bene il segno che è una squadra che sta facendo bene è proprio ridosso dalle prime di testa e con questo noi siamo anche arrivati in chiusura del nostro appuntamento quindi io ringrazio e saluto Alessandra De Vincenzi grazie Alessandra grazie a voi consigliere federale della Federazione Italiana Palla Tamburello e la giocatrice del Monte Nicole Buselli grazie Nicole grazie come sempre a Flavio Biali ciao grazie a te Chiara e grazie a voi per averci seguito buon proseguimento qui su Sport Italia il magazine della Palla Tamburello torna prestissimo